Come diminuire la massa grassa e aumentare la massa magra? Oggi Mario e Valerio, i nutrizionisti più amati d'Italia, ti spiegano esattamente i passi da fare per perdere grasso, aumentare muscolo. Dopo la sigla. Sicuramente quando guardi le modelle nelle riviste, quando guardi quel grandissimo, bellissimo fisicato che trovi traramente in spiaggia, quello che ti chiedi non è come faccio a pesare meno sulla bilancia, ma è come faccio ad avere meno grasso nel corpo e mettere su più muscoli, perché se hai capito che in realtà l'estetica non è soltanto essere magari secchi e svuotati, oppure essere tanto muscolosi ma non definiti, hai capito che bisogna avere il giusto bilanciamento di massa grassa, che in genere è abbastanza bassa, però non troppo 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 bassa, soprattutto nella donna, e la massa magra, quindi il muscolo, perché la massa magra comprende varie cose, ma volgarmente noi la definiamo come i muscoli che abbiamo addosso, abbastanza importanti da farti vedere bene in costume o comunque in, diciamo, in giuro che sia. Nel momento in cui hai troppi muscoli, esempio il bodybuilder, magari non è il tuo obiettivo, ma allo stesso modo nel momento in cui hai tanti muscoli ma magari tanto grasso che copre il tuo corpo, non riuscirai mai a mostrare questi muscoli. Quindi quello che è l'obiettivo della maggior parte delle persone che vanno in palestra, che si allenano e comunque cercano l'estetica ottimale, è diminuire la massa grassa e aumentare la massa magra. Questo è un processo che spesso è noto come ricomposizione corporea. Non è magari la prima cosa che deve fare la persona che è molto in sovrappeso, lì in genere si parla di dimagrimento, quindi voglio buttare giù tanti chili, poi se ne parlerà di modellare, mettere su più muscoli, no? Però moltissime persone che si avvicinano al normopeso, moltissime persone che vogliono realmente essere meglio a livello estetico e che arrivano da noi cercando aiuto, ci chiedono la ricomposizione corporea. Quindi allo stesso modo, allo stesso momento, togliere massa grassa, quindi dimagrire, e mettere su massa muscolare, quindi mettere su il cosiddetto tono muscolare, cioè l'aspetto che una persona vede nel momento in cui ti vede che non stai compando in palestra ma che sei unico film e così via. Quindi apparire fit. Questo è possibile, ragazzi, è possibile fare ricomposizione corporea, ma è necessario seguire due canali che sono separati, ma si incrociano assolutamente assieme durante la tua giornata, allo stesso momento, perché vedi il dimagrimento, quindi buttare giù tanti chili passa per il 90% o anche di più da un aspetto chiave, ciò che mangiamo, quindi la nostra nutrizione. La ricomposizione corporea, invece, non funziona esattamente così. Infatti la ricomposizione corporea, ciò che mangiamo, è sempre fondamentale, è uno dei canali fondamentali, ma al tempo stesso si affianca l'altro canale fondamentale, che è quello dell'allenamento, cioè muoversi correttamente durante la propria giornata e modellare il proprio corpo grazie a dei sovraccarichi. Puoi usare il tuo corpo come sovraccarico, puoi usare dei pesi come sovraccarico, ma se non sforzi i muscoli realmente, non impatti sul tessuto muscolare, lo danneggi e gli permetti di essere ricostruito più forte in prima, non avrai mai un corpo fit. I nostri programmi che si basano sul rimodellamento corporeo, quindi sulla trasformazione del punto tono muscolare, così vogliamo dire, si basano tutti sull'abbinare l'allenamento corretto alla nutrizione corretta, perché se non ti vuoi allenare o non ti puoi allenare, avrai difficoltà a ottenere il corpo fit che vuoi realmente, quindi avere i muscoli tonici, sodi e modellati. Qual è il sistema più efficace per fare questo senza passare tutta la tua giornata in palestra, senza massacrarti 10 allenamenti a settimana? L'allenamento HIPT, che noi abbiamo codificato con il nostro sistema Metaflex. L'allenamento HIPT sta per High, quindi Alta, Intensity, Intensità, Power, Potenza, Training, allenamento. Lo ripetiamo. High, Intensity, Power, Training, cioè allenamento di potenza ad alta intensità. L'allenamento di potenza è un allenamento che ti permette di sviluppare la muscolatura perché ti permette di utilizzare un carico, quindi non è la corsa, non è il basket, non è il calcio. Va bene, fare sport va benissimo, ma fare sport non è il modo migliore per trasformare il tuo corpo. Per trasformare il tuo corpo ci vuole allenamento, che è diverso. Perché? Perché l'allenamento ha uno scopo, non quello di andare a fare la partitella con gli amici per divertirti, ma ha lo scopo di danneggiare il tessuto muscolare per permettergli, grazie alla giusta nutrizione, di ricostruirsi più forte di lui. Danneggiando i muscoli in modo corretto, quello che farai sarà poi inserire l'alimentazione giusta, ricostruire i più forti di prima e ovviamente più grossi, tonici, sodi e esteticamente più belli. Con l'allenamento di potenza quello che fai è allenarti in maniera breve, allenarti in maniera molto intensa perché è importantissimo dare intensità all'allenamento. Quindi se tu fai 20 serie di spinte verso l'alto con due bottigliette d'acqua che per te non pesa assolutamente nulla, non svilupperai la muscolatura perché i tuoi muscoli hanno bisogno di carico per essere sviluppati, hanno bisogno di sentire lo stress muscolare, sentire il danneggiamento e quindi ovviamente ricostruirsi più forte di prima. Quindi intensità, esercizi di potenza, corpo libero con attrezzi che possono essere quelli della palestra o piccoli attrezzi, manubri, bilanciere, kettlebell e così via, ti permetteranno di danneggiare la muscolatura e ricostruirla. Noi nel nostro sistema MegaFlex quello che facciamo è dedicare una parte intera all'allenamento alla costruzione di muscolo vero e proprio, quindi esercizi pesanti e intensi per danneggiare veramente il muscolo e poi una parte dedicata al condizionamento muscolare, cioè esercizi magari più leggeri ma molto 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 intensi come ritmo cardiovascolare per condizionare il metabolismo a consumare di più come energia anche nelle ore successive all'allenamento e consumare più carboidrati per permetterti di gestirli meglio, perché poi la seconda parte fondamentale è quella della nutrizione. Infatti la nutrizione riveste un aspetto importante, lo sappiamo benissimo e lo sai anche tu che la dieta è importante se puoi ottenere dei risultati precisi, però le persone commettono sempre i soliti errori. Ora, è chiaro che la ricomposizione è un percorso particolare, Mario ti ha fatto capire bene che non è la perdita di peso, non è l'aumento di massa muscolare, è un percorso specifico che si intreccia a delle caratteristiche ben particolari. Ora, la distribuzione dei macronutrienti, quindi come distribuisci proteine, carboidrati e grassi, è decisamente, ma che dico, infinitamente più importante del solo seguire certe calorie, perché per la donna e per l'uomo ci sono delle differenze ovviamente fisiologiche, ci sono delle distribuzioni di nutrienti ben diverse e in più queste distribuzioni variano ulteriormente in base alle necessità della persona. Ma in linea di massima possiamo dire che rispettare i giusti nutrienti è fondamentale. Ora, faccio un esempio di un errore che hai commesso al 100% anche tu. I maschietti, ma anche le femminucce, quando vogliono scolpirsi, perdere grasso e migliorare il tono, quindi avere quel bel fisico fit da modello, iniziano a consumare una quantità sregolata di proteine a scapito dei carboidrati, a scapito dei grassi, anche più delle volte a scapito dei carboidrati. E questo è un errore fatale, perché consumano tante di quelle proteine che diventano eccessive e praticamente inutili all'organismo. Ora ti spiego una cosa che sicuramente nessun altro ti ha spiegato, perché ci tengono a farti seguire i luoghi comuni, ci tengono che ti compri un milione di integratori, ci tengono che tu fai le cose da fissato di palestra che ti dicono di fare. Ma se tu hai infatti bisogno di proteine, lo raggiungi e lo superi con le proteine, non è che più proteine è meglio, semplicemente il corpo fa una cosa, che è un processo fisiologico che tu hai all'interno, che consente al tuo corpo di sopravvivere, prende le proteine in eccesso, le trasforma in carboidrati, quindi anche se tu non lo sai, hai dei carboidrati, degli zuccheri che circolano nel tuo corpo, li utilizza come zuccheri, quindi ti potrei mangiare magari un bel piatto di pasta, anziché un gozzato di petto di pollo, e se tu non sfrutti tra l'altro quegli zuccheri, quindi vai magari oltre il tuo fabbisogno, lo va a depositare come tutte le altre calorie, cioè, parliamoci chiaro, non è che le proteine sono gratis, le proteine hanno 4 ghilo calorie, come i carboidrati, se tu te li mangi e il tuo corpo non li usa, finiscono sui fianchi o sulla panza, ok? Quindi per questo è importante non seguire i luoghi comuni, le dicerie, i consigli del broda palestra che poi nello spogliettoio si fa le siringhe, è importante seguire la scienza, seguire quello che funziona, e cosa funziona? Funziona mangiare in realtà, nel tuo caso specifico, più carboidrati che proteine, quindi scusami se sto sconvolgendo il tuo mondo, ma è così che funziona, più carboidrati che proteine, anche perché raggiunto il fabbisogno di proteine, sono i carboidrati che fanno il più del lavoro quando vuoi bruciare grasso e costruire muscolo, perché? Perché se tu mangi i carboidrati a sufficienza, avrai energia per i processi cellulari, quindi il tuo corpo può attivare le cellule, bruciare grasso, funzionare in modo migliore, fa funzionare il cervello in modo migliore, perché il cervello funziona a carboidrati, ok? Questo è importante saperlo, non funziona con nessun altro carburante, come i tuoi muscoli, non funzionano con nessun altro carburante, solo con i carboidrati, ma in cui i carboidrati hanno una funzione che purtroppo ci tengono a tenertela nascosta, la funzione che si definisce muscle sparing, quindi protegge i muscoli, da che cosa? Quando tu non mangi calorie a sufficienza, ti ho detto prima che il tuo corpo può trasformare proteine in zuccheri, ok? E se tu non mangi proteine a carboidrati, scusa, a sufficienza, calorie a sufficienza, indovina un po' il tuo corpo da dove si andrà a prendere i zuccheri? Qual è la riserva più grande di proteine che tu hai nel tuo corpo? I muscoli. Inizierà a distruggere piano piano i tuoi muscoli. E se tu sei maschietto, non avrai mai i bicipiti grossi e il petto voluminoso che vuoi. Se sei femminuccia, i tuoi glutei non saranno mai belli tondi, ma saranno mosci. E ti ritrovi come il 99% dei ragazzi e delle ragazze ad andare in spiaggia e a sfoggiare un bel fisico secco, senza un volume, con magari, ed è la situazione peggiore, glutei flaccidi, un po' di pancetta qua, un po' di fianco lì. Perché? Perché hai fatto le cose alla cavolo, non hai distribuito bene i macronutrienti, non hai mangiato le proteine giuste per mantenere i muscoli al loro posto, non hai mangiato i carboidrati giusti, nelle quantità giuste sia per soddisfare le attività metaboliche e il tuo sforzo fisico, sia per proteggere i muscoli, perché devi dare carburante, il corpo non deve andarselo a prendere togliendolo dai muscoli, e non hai mangiato neanche la quantità di grassi giusta per tenere in equilibrio i livelli ormonali. Anche, parliamoci chiaro, se vuoi bruciare grasso e costruire muscoli, sono gli ormoni a dare l'input, a dare il segnale, ok? Quindi, tirando le somme, quello che devi fare con la tua dieta è non seguire le calorie, seguire i luoghi comuni dei bodybuilder, che è inciso, se stai guardando questo video, fino a oggi non ti hanno portato da nessuna parte, non hai risultati, e iniziare a distribuire bene i carboidrati, le proteine e i grassi, in quest'ordine, dà importanza ai carboidrati. Una volta fatto questo, otterrai risultati a comando, quando vuoi, sarai in grado di trasformare il tuo fisico sempre. Ed è proprio per questo che tantissime persone ci scrivono in risposta, magari molto spesso, ai prima o dopo che gli utenti pubblicano, che sei guardato da Fessibile, ovviamente nel gruppo di Fessibile Italia, o che tagliano le nostre mailing list. Perché? Perché tantissime persone mostrano il dimaglimento, e quindi ovviamente si vedono tanti chili in meno, e così via, va benissimo. Ma tantissime altre mostrano la ricomposizione corporea con i nostri percorsi, cioè non ti fanno vedere proprio la differenza di 20 chili in meno, 15 chili in meno, 50 chili in meno, ma ti fanno vedere come, stranamente, vediamo una persona che è la stessa, accanto, con 2 chili di differenza, 1,5 kg, 3 chili, magari qualcuno ce n'è anche in più il chilo, ma l'aspetto estetico è completamente differentico, ma non può essere la stessa persona. Ragazzi, magari ha cambiato 2 chili di differenza, perché? Perché questa persona ha seguito un approccio con la dieta Fessibile, che ha portato a mangiare di più, a mangiare in maniera più soddisfacente, più carboidrati, e così via, e l'ha portato ovviamente con il giusto allenamento, e l'ha giusto affiancamento da parte dei nostri coach, a trasformare il proprio corpo, le proprie convinzioni, e finalmente fornire l'energia necessaria per trasformare i processi di catabolismo muscolare, che prima probabilmente viveva, quindi perdeva sempre muscolo, in processi di anabolismo, di crescita del muscolo, mentre brucia grasso, e quindi trasforma radicalmente il proprio aspetto estetico. Questo noi lo facciamo in genere con il percorso chiamato la rinascita, che è il percorso di coaching nutrizionale più alto possibile in Italia, dove le persone vengono seguite direttamente nel tutto il triangolo del successo, quindi coaching, allenamento e nutrizione, per trasformarsi e raggiungere i propri obiettivi. Quindi se vuoi qualcuno che ti segue in tutti questi tre aspetti, senza mai lasciarti da solo, sincronizzando perfettamente i due elementi fondamentali, allenamento e nutrizione, e dandoti la chiave per raggiungere il successo, cioè un affiancamento continuo, praticamente 24 ore su 24, grazie ai nostri coach, la rinascita del programma Adapted. È solamente su selezione e candidatura, non per qualsiasi motivazione stranamente discriminatoria, ma semplicemente perché noi prendiamo le persone realmente motivate a lavorare, e che noi sappiamo poter aiutare. Ci sono certi casi che non possiamo aiutare, semplicemente per problematiche varie, e magari la persona deve risolvere in altri modi, che possono essere problematiche di origine medico, e così via, e che vanno trattate da altri professionisti. Se invece pensi che questo tuo caso, e questo tuo obiettivo che desideri realmente, possa essere raggiunto grazie a un percorso integrato che ti permette di ottenere tutto ciò che ti serve in questi tre aspetti, allora nel link al di sotto di questo video puoi parlare gratuitamente con uno dei nostri consulenti, ti aiuterà a capire qual è il tuo obiettivo, come raggiungerlo, e vedrà se possiamo raggiungerlo assieme, in quel caso ti presenterà il nostro programma. Quindi richiedi la telefonata gratuita, potresti non trovare spazio nel calendario, proprio perché i nostri consulenti sono estremamente impegnati, e quindi possono fare poche telefonate a settimana, per cui affrettati a farlo prima possibile, e se trovi lo spazio nel calendario, assolutamente prenota la tua consulenza, e accertati di essere presente in questa consulenza, per cambiare il destino del tuo corpo. Quindi clicca il link al di sotto di questo video, per fare la telefonata più gratuita con i nostri consulenti, per candidati per il programma di nascita. E quindi ora hai tutte le chiavi per finalmente bruciare grasso, scolpire e tonificare il tuo corpo. Vienci a seguire anche su tutti gli altri canali, quindi su Facebook, su YouTube, su Instagram, e anche ci sono tanti altri contenuti, che ti aiuteranno sul serio a trasformare il tuo corpo in modo definitivo. Non ci resta altro da aggiungere, se non da Mario e da Valerio. Per oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.